bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vedete mi trovo nel mio garage in gta online indosso sempre il costume di babbo natale perché secondo il mio parere è favoloso qui con me c'è sempre calesse saluta pure bella raga vi volevo far vedere appunto la mia nuova collezione di macchina adesso vi domanderete bistar ma con cosa l'hai comprata? semplice l'ho comprata con i soldi che la gente mi ha regalato online questo perché allora nel mio ultimo video vi sconsigliavo di mettere i soldi in banca perché magari la rockstar poteva farvi qualche casino eccetera però ha rilasciato un comunicato appunto alla rockstar in cui dice se non sbaglio vi ho detto anche in un mio video adesso non ricordo bene che in pratica prenderà provvedimenti solamente contro chi ha violato il sistema chi ha ricevuto soldi così a random che non gli aveva chiesti diciamo o è entrato in una partita e qualcuno gli ha messo così tanti soldi da esplodere non gli farà nessun male non verrà fatto niente a quella persona verrà solamente cioè verranno eliminati tutti i soldi solamente in un futuro aggiornamento quindi ho detto vabbè se nel prossimo aggiornamento toglieranno tutti i soldi almeno utilizziamoli ho rischiato io ragazzi perché come ben sapete io GTA l'ho finito l'ho stra finito quindi ho voluto rischiare e divertirmi un po' quindi ho messo un po' di soldi in banca e mi sono comprato tutte le macchine che volevo e le ho stramodificate perché come vi ho detto toglieranno i soldi in un prossimo aggiornamento quindi ho detto vabbè nel frattempo mi compro un po' di macchine sperando poi che quando toglieranno i soldi non toglieranno anche le cose che si sono comprate con questi soldi perché queste cose qui non l'hanno specificata quindi spero vivamente che non tolgano anche le macchine oppure chi si è comprato la casa con questi soldi qui spero che non tolgano anche le cose ma che tolgano solamente tutti i soldi in banca poi alcuni dicono anche che chi ha segnalato hacker o ha segnalato il problema alla rockstar poi la rockstar gli lascerà una parte di questi soldi questo mi sa molto difficile comunque le voci girano e dicono questa cosa qui e io ve le riporto poi comunque chi vivrà vedrà come si dice quindi adesso inizio subito col dirvi che ho comprato la Infernus come vedete l'ho fatta a viola scuro con i cerchi viola rientranti spettacolare questa macchina qui l'ho fatta a viola perché volevo farla assomigliare un po' alla Lamborghini Diablo favolosa penso che sia la Lamborghini più bella che abbiano mai creato poi passiamo di qua c'è la Skyline o la GTR che c'era nel film di Fast and Furious ho cercato di farla il più simile possibile anche se nel film i cerchi erano grigi io li ho fatti blu qua perché è favolosa così è veramente massiccia questa macchina poi non poteva mancare la Stinger GT questa macchina qui ha una linea stra elegante morbidissima cioè questa qui dovete averla tutti nel garage cioè parla da sé è favolosa poi abbiamo chiaramente la mia Hot Knife col mega simbolo della crew ragazzi questo simbolo è favoloso in teoria non volevo proprio questo verde ma per avere il verde dovevo sbloccare qualcos'altro quindi ho voluto lasciare questo i cerchi sono color rame favolosi poi chiaramente la mia Chameleon che questa qui per chi non lo sapesse si può prendere solamente con il pacchetto della Collector Edition chi ha comprato GTA nell'edizione limitata potrà avere solamente questa macchina e anche la Hot Knife poi qui abbiamo questa macchina qui che è una berlina a 5 porte questa qui in pratica è la mia prima macchina e non ho avuto il coraggio di venderla per prendermi o la Cita o un'altra macchina ho voluto tenermi questa qui e modificarla a bestia poi chiaramente il mio mega jeepone che mi vedete sempre andare in giro in mezzo alla neve o se c'è da fare qualche escursione non potete mancare voglio dire esatto qualche escursione fuori città si va via su questo furgone qui cioè su questo furgone su questa mega jeep poi abbiamo la macchina del beach boom pack favolosa anche questa qui molto bella poi abbiamo la Corvette ragazzi Corvette Cabrio questa qui è favolosa era indeciso tra questa o la Grotti però questa qui è favolosa Cabrio mi piace un casino al culo con questi fari qui cattivissima veramente mamma mia quanto sono belli quei fari dietro è una cosa favolosa gialla e nera cerchi neri e poi questa qui la LG questo qui è un bianco ghiaccio se non sbaglio ah la Entity vabbè la LG era la Skyline ecco la Entity questo qui è un bianco ghiaccio con i cerchi rossi e il fumo verde l'ho fatto bandiera italiana anche questa macchina qui mi piace tantissimo è straveloce e adesso appunto vi volevo un attimo dire anche delle gomme perché molti magari non lo sanno ma se mettete tipo le gomme che ha questa Jeep o le gomme che ha appunto questa qui la Bifta queste qui diciamo tassellate su una macchina sportiva farà schifo però la tenuta di strada aumenta in una maniera pazzesca provate per credere questo qui è un piccolo accorgimento perché magari molte macchine che sono posteriori tipo questa qui la Corvette il Ferrari o la Cita eccetera se derappate magari vi parte la macchina in una maniera pazzesca che non riuscirete a controllare se mettete le gomme così tassellate la macchina atterrà molto di più quindi detto aumenterà l'aderenza però la velocità magari calerà un po' esatto un po' sensibilmente ecco ma visto che non c'è il tachimetro in GTA non saprete quanto andrete esatto comunque detto questo qui ragazzi vi volevo adesso ringraziare perché questo qui è l'ultimo video del 2013 quindi l'ho voluto fare nel mio garage per farvi vedere tutte le ultime novità volevo farlo anche con Attila però purtroppo un giorno c'è uno un altro giorno non c'è l'altro quindi veramente è un po' impegnato questi giorni esatto con il lavoro e tutto quindi sono qui per per ringraziarvi per appunto per quest'ultimo anno passato insieme qua su YouTube che poi non sono da un anno su YouTube ma sono solamente da un paio di mesi esatto e diciamo il boom l'ho avuto da settembre proprio con il gioco di GTA perché prima mi sembra che avevo tipo sui mille iscritti una roba del genere e adesso sono arrivato a diecimila iscritti con il vostro aiuto veramente grazie mille ho veramente incontrato persone gentilissime con cui mi trovo benissimo appunto qua con Calesse che lo vedete sempre in tutti i video con Attila poi devo ringraziare anche Dark che è quello che mi ha creato la seconda crew quindi tutti quelli che sono nella seconda crew devono ringraziare Dark ringrazio anche Luke che ha creato la terza crew veramente tutti i membri della crew con cui gioco non giornalmente ma con cui mi trovo più spesso veramente è favoloso tutto questo qui tutto questo supporto poi vi dicevo nel mio vlog che se ne volevate un altro si doveva arrivare a diecimila iscritti questo qui lo dicevo a novembre adesso siamo il 31 di dicembre quindi mi avete preso completamente in contropiede perché non avrei mai immaginato di arrivare a diecimila iscritti in così poco tempo perché ragazzi io adesso non ho la webcam quindi speravo di avere un po' più di tempo per racimolare un po' più di soldi e potermela comprare però purtroppo adesso come adesso sono impossibilitato a farvi un vlog dovrete aspettare ancora un po' finché non ho racimolato un po' di soldi da parte e andrò a comprarmela perché costano un casino questo è cavolo di webcam e niente per chi mi chiedesse appunto il vlog questo è il motivo perché non lo faccio quindi dovete avere un attimo di pazienza quindi ragazzi quest'ultimo video del 2013 lo concludo qua vi auguro un felice anno nuovo festeggiatelo divertitevi non fatevi scoppiare braccia gambe e altre cose veramente perché quella dei petardi la vedo come una cosa idiota magari quando avevo ero un po' più giovane diciamo quando avevo 14 15 anni li scoppiavo anch'io ma adesso li vedo sotto un altro aspetto se avete animali lasciateli in casa se no veramente prendono una paura pazzesca io appunto ho un cane e me lo terrò in casa Calesse fai pure tu gli auguri se hai qualcosa da dire anche io raga vi auguro un buon anno comunque anche da parte mia ho dei ringraziamenti molto speciali perché è veramente un traguardo che non mi sarei mai aspettato collaborando con Bistar comunque del canale e niente bello quindi da Bistar da Calesse da Attila soprattutto che adesso starà lavorando vi auguro anche lui un buon anno da Dark che vi ricordo che è il ragazzo che ha creato la seconda crew anche lui vi augura buone feste buon anno divertitevi non bevete troppo o meglio non bevete poco poi anche da Luke che ha creato la terza crew anche lui vi augura tutto il meglio il possibile diciamo per questo 2014 e da tutti gli altri membri della crew cavolo adesso mi sto impapinando buon anno ecco il video non si conclude qua perché vi devo far vedere una cosa veramente speciale che me l'avete chiesto in moltissimi e adesso io e Calesse saliremo su una macchina perché come sempre mi ricordo alla fine di farvi vedere le ultime cose quindi andiamo su questa macchina Calesse e vi porto a far vedere una cosa che in moltissimi me la chiedono quindi ragazzi ci beccheremo tra poco e siamo qui ragazzi da Ammunition perché anche nell'ultimo video che vi ho fatto vedere ero con Franklin chiaramente nella storia e avevo una mitraglietta color rosa e molti di voi mi avete chiesto come si fa ad avere quel colore semplice basta che avete GTA l'edizione limitata la Collector Edition e avrete tutti i colori come qua nell'online adesso penso che tutti riescano a vedere avete colorazione nera militare verde arancione L SPD poi c'è la rosa la oro e la platino io questi colori qui ce li ho anche nella storia perché appunto ho la collezione da edizione limitata poi appunto c'è anche questo fucile la pistola e il martello questi qui sono solamente per chi ha la Collector Edition lo ribadisco quindi detto anche quest'ultima cosa qui per il 2013 adesso usciamo un attimo se no c'è la musica in sottofondo e YouTube mi dà il copyright quindi ragazzi qui da Beastar è veramente tutto spero che questo 2014 sia un anno fantastico non dico di aggiungere 1-0 agli iscritti però veramente spero che cresciamo in una maniera pazzesca quindi se il video vi fosse piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace commentate scrivetemi nei commenti come passerete voi il capodanno passate nella pagina Facebook e lasciate un mi piace anche là io vi auguro veramente di passare un capodanno fantastico Calesse saluta pure bella raga e qui per quest'ultimo video del 2013 è tutto e noi ci vedremo nel 2014 con moltissime novità speriamo che il jetpack nel 2014 sia una realtà e non solo una finzione un mito quindi esatto quindi ragazzi io vi risaluto e ci vedremo nel 2014 bella bella